Andiamo nel sistema di isolamento Hanno disattivato il sistema di sicurezza e siamo tutti interi Urrà per la giustizia in tutta la sua multisplendida gloria Si, beh, giustiziere, hai anche tolto corrente all'SIM del Watercovo Il sistema di isolamento malvagi È un problema Waterman puzza per caso di latte rancido? Si, si, e come? Oh no, uno dei malvagi è appena evaso Che cosa? C'è un malfattore a piedi libero? Oh ma dio Chi è? Melrei? Bolla sporca? L'esagitato atomico? No, peggio ancora Il tuo arci nemico Gamberetto Gamberetto Qualcuno ha chiamato? Oh, pensavo di trovare una coppia di supereroi Invece vedo soltanto un paio di tronchi marci alla deriva Gamberetto Io non ti perdonerò mai, razza di pazzoite Per cosa? Una cosa peggiore del mondo Ha messo in lavatrice tutta la biancheria di Waterman Con un calzino rosso Oh no Così è diventato tutto quanto rosa Rosa Oh ma è orribile Waterman, io pensavo che il rosa ti donesse molto Davvero? Certo, davvero molto poco Che stronzo Cos'è quella cosa gialla? Per caso è muffa? Sono una spugna Non una muffa C'è una differenza cellulare Una differenza cellulare Cellulare? Sì, sì Grazie per la lezione, dottor Scienza A presto, Rosellina Per i sette mari Io non avrò riposo finché non fermerò Gamberetto Ma poi perché è tutto così scuro? Ma prima devo abbandonare la mia identità segreta E diventare Waterman Tu non hai un'identità segreta Eh, esatto Occupati di Gamberetto Mentre io penso a lui Ti vendicherò Waterman Vendicherò i tuoi calzini Cosa dobbiamo fare? Ecco fatto No, cavolo Ok, ho capito già la battaglia Ho già capito la battaglia Che stronzo Corri E ora gira Fermo, fermo, fermo No È una cavolata di battaglia Però in realtà è anche una bella meccanica È una bella meccanica sta battaglia E intanto i robot mi stanno Piano piano cercando di prendere Facendo il giro all'inverso E io Fermo Ok Fermo lì Ok, vai, 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 vai Prendilo Preso Oh no, non di nuovo Così non è giusto Sono stato surgelato E questo è la fine di Gamberetto Gamberetto finalmente è di nuovo surgelato Ed è grazie a te, Frankie Mi chiamo Ecco, ho trovato questa in mezzo alla mia biancheria Era accanto a dei calzini rosa Guardate Un'altra spatola d'oro Grazie Waterman Come se ne avessi bisogno Un tuo splendido esempio All'insegna della gentilezza Ma sei ancora qui? C'hai ragione Zuppa di Gamberetti 39 spatole Secondo me Ne abbiamo più che in abbondanza E devo fare qualcosa da queste parti Sembrerebbe di no Ti dirò che comunque come combattimento è stato semplice Però non era stupida la cosa Non era così scontata Soprattutto se abbassavano il tempo tra te che lanci E lui che scompare Poteva diventare difficile come battaglia Direi che abbiamo fatto tutto, giusto? Sì Preso tutto Tutte le spatole d'oro Tutti i calzini Tutti i pulsanti Direi che quasi tutti i livelli abbiamo preso tutto il disponibile A parte per esempio Bikini Bottom Che ovviamente sono ancora bloccati Però in quasi tutti i livelli abbiamo ottenuto tutte le spatole fino ad ora No, questo ancora non l'abbiamo fatto Solo questo ci manca Perché non abbiamo ancora la bolla mobile Di qua invece era la battaglia A posto Diciamo che stiamo... Stiamo giocando mica male, eh? Vabbè, intanto torniamo indietro Però per antipatia Ecco qua Giusto per avere ancora quei due soldi in più Ciao Squiddy Vabbè, ma a parte chi è il che sta giocando a scacchi, scusami? Vabbè, io me ne esco Dunque, visto che la puntata scorsa Io volevo solamente fare un giro per gli edifici Non pensavo che dentro la... Lascia che ti spieghi come lanciare una palla bolla Premi questo tasto per lanciare una bolla E abbattere il robot restando a distanza di sicurezza Già fatto, grazie Grazie, amico bolla Però ricorda che la palla bolla funziona solo sugli oggetti che sono a contatto con il suolo Ah, grazie dell'aiuto non richiesto Visto che avevamo già fatto Dicevo, volevo vedere che cosa c'era da queste parti Quindi abbiamo casa di Sandy Che sicuramente è un livello a parte a questo punto Ma non è detto, eh Non è segnata sulla mappa Quindi proverai anche ad entrarci Però, qui abbiamo Ops Sai cos'è il problema? È che quando... Cosa devo fare? Eh, ho capito che c'è il cubo di Rubik che gira lì, ma... Ah, c'era il trampolino Non l'avevo visto Allora, lì ho visto le mutande d'oro Aspetta Che la volta scorsa Mi sono anche... Giustamente lamentato Che non ne trovavamo più Vai, sali, sali Tadam 40 spatole a 2 secondi di... Dallo scadere del tempo Quindi abbiamo Le montagne di sabbia Casa di Sandy Il commissariato E Rockbottom Visto che sicuramente andare al Chambucket È questione di avanzamento di storie Visto che sono 40 spatole E noi quelle abbiamo Tra l'altro dobbiamo andare a prendere le mutande Nooo Nell'unico punto in cui si poteva morire Nell'unica mappa dove non puoi morire Fantastico Riattiviamo un secondo questo E andiamoci a prendere il paio di mutande Ecco fatto Grazie C'è una spatola d'oro Sopra il Chambucket C'è una spatola d'oro Dunque che cosa facciamo? Commissariato o casa di Sandy? Proverai il commissariato prima Dunque che cosa abbiamo qui? Questo è il visualizzatore di robot Posizionati sulla piastra Di fronte Attivarlo Puoi usarlo per visualizzare Le informazioni sui robot catturati Ah Ah ti fa vedere Perché? Comunque ti fa vedere tutte le informazioni su tutti i robot disponibili E quindi di conseguenza anche come ucciderli Ci manca questo Questo qui Questo qua con il cavallino E questo Strano Credo di aver appena Rotto un attimo L'incredulità Perché Oltre queste finestre Non c'è assolutamente nulla È il blu totale Del vuoto assoluto Ma ovviamente tu qua Non ci sali Anche se Un oggettino Io ce l'avrei nascosto qua Comunque tu Vedi Le finestre E dici C'è il mare fuori Ci sta un mare fuori Però se sali In realtà è solamente blu Senza nient'altro fuori Ok Andiamo a casa di Sandy Che sembrerebbe essere Solamente una casa Non credo sia un livello Spero Sandy Nella tua cupola D'acqua Quelle ferraglie hanno rotto il vetro SpongeBob Adesso la mia casa sull'albero È infestata dai robot Ed è tutta colpa tua Vai dentro il sistema Tutto Io Siete pronti Ah è una Uh Oh cavolo È una È una battaglia a tempo Quindi Solso Zorzar Che errore È una battaglia a tempo Perché giustamente Se no Moriamo Senza acqua Come una brezza primaverina Prendi questo Aia Ho bisogno di cure Mi sento una spugna nuova Benissimo Così va molto meglio Penso che questa serva più a te che a me Spatola d'oro gratis Dove sei? Ah grazie Dio mio È terrificante questa cosa Dammi un po' d'acqua Senti dammi Dammi un po' d'acqua È orribile Non cincischiare Fai sloggiare quei ro... Già fatto Tranquilla Guardalo Che è tutto moscio Tutto morto Un bicchiere d'acqua Grazie Oddio È terribile questa cosa Comunque no Non c'è nient'altro Ma C'è Patrick qua Patrick aiutami Sto morendo Perfetto Direi di scegliere Il prossimo livello Il prossimo livello